Il coro Sonja Schnick Sunflower si esibisce in una bellissima atmosfera. Le donne ucraine, lontane da casa e dai loro cari, si sono unite a diverse donne del posto, a Lito Michol, paese di 10.000 abitanti in Repubblica cieca. Cantano insieme le canzoni che conoscono fin dall'infanzia, ma anche canzoni cieche e polacche e diffondono così gioia nel paese che le ha accolte. Ai concerti di beneficenza vendono i propri prodotti come magliette, borse, braccialetti o piccoli ornamenti con motivi ucraini. Le donne ucraine sono arrivate in Repubblica cieca per lo più con figli e senza marito, perché non potevano più sopportare i bombardamenti notturni come Elena, fuggita dalla regione di Kiev. Inoltre vengono confezionati pacchetti con messaggi personali per i familiari che stanno combattendo per la libertà dell'Ucraina. Grazie per la libertà dell'Ucraina.